Il settore dell'edilizia è in crisi, soprattutto qui nel sud, si sta preparando una manifestazione di protesta, perché? Perché siamo in una fase in cui stiamo subendo sulla pelle delle imprese il cosiddetto credit crunch, per cui siamo in una situazione in cui gli operai restano a casa, le imprese chiudono e falliscono, non sono in grado di assolvere gli impegni finanziari perché da una parte la pubblica amministrazione continua a non mantenere gli impegni e quindi a non pagare. Dall'altra il sistema finanziario ormai sta generando una situazione di sofferenza diffusa all'interno del sistema delle costruzioni che, devo dire, non colpisce ormai solo le imprese in quanto tali, ma colpisce l'intera filiera. A questo punto se da parte dell'intero sistema finanziario c'è una volontà di far chiudere le imprese di costruzioni ce lo dicessero, almeno cerchiamo di mettere in liquidazione volontaria. Se invece c'è la voglia di far riprendere il sistema economico è necessario che tutti quanti con grande coscienza civile dobbiamo mettere mano all'azione quotidiana e rifinanziare, immettere liquidità nel mercato. Quindi questo rapporto conflittuale che c'è sempre stato tra banche e imprese esiste tuttora? Guardi, in realtà il rapporto non è che fino ad oggi sia stato conflittuale. Diciamo che stiamo notando che da un certo periodo a questa parte, fino ad un certo punto è stato sempre un rapporto complicato. Da qualche mese a questa parte questo rapporto complicato è diventato un rapporto critico. Cioè una banca non può scegliere scientemente di non finanziare un'impresa solo perché è edile. Non può scegliere di non finanziare un'impresa non sana, ma non perché è edile, non perché è del sistema edile. A questo noi opponiamo un fortissimo rifiuto e da lì nascono le nostre rimostranze affinché le autorità competenti prendano comunque provvedimenti perché poi le autorità competenti e di controllo del sistema finanziario ci dovranno venire a raccontare che cosa sta succedendo e quale azione di controllo fanno affinché questo non avvenga. Il settore dell'edilizia è uno dei più radicati nel nostro territorio, ma di che numeri stiamo parlando? Di imprese, di lavoratori che ruotano attorno a questo settore? Guardi, per farle un numero breve, parliamo di un settore che vale solo come sistema delle costruzioni, vale l'11% del PIL del nostro territorio. Sono circa 1.500 le imprese e sono circa 15.000 gli addetti. Credo valga molto di più di qualche stabilimento FIAT. Quindi la protesta come sarà? La protesta si svolgerà in città, sarà una protesta molto rumorosa e molto significativa perché pur ringraziando l'attenzione che oggi il prefetto sta dimostrando, ci ha già scritto, ci ha convocato, noi riteniamo di dover andare veramente oltre, di dover dare un segnale sociale forte. Cioè qui è un problema di responsabilità sociale che non si può chiedere solo agli imprenditori che stanno in questo lavoro quando si parla di sicurezza, quando si parla di tutto. Attività assolutamente legittime e doverose. Si deve chiedere all'intero sistema produttivo affinché si consenta di dare respiro e vita a soggetti imprenditori che attraverso questo lavoro fanno comunque sì attività di impresa ma attività sociale.